Ciao a tutti, piccolini iscritti, io sono Salgocraft, mezzo uomo, mezzo creeper! Bene ragazzi, stiamo arrivando velocemente a 1000 iscritti. Allora, sto notando che siamo già atto scelto, ci manca pochissimo, veramente pochissimo! 2 scelto iscritti ancora e arriviamo a 1000 tornero umano. E dovete vedere il cambiamento che ho fatto alla mia skill. Vediamo se vi piacerà ragazzi, oggi non facciamo video di manca sulla costruzione, ma bensì... Siamo su YouTube, siamo sul mio canale. Ho fatto qualche video, ho fatto tantissimi video, tipo là dietro di che là sotto a velocità. Possiamo trovare C'è la mia bellilla ovviamente Possiamo trovare tutto Tutti i contenuti su questo canale Wow C'è anche XXJolly che lo saluto Se mi sta venendo il video Pace questo qui super sass Guardate LibroStory mi ha voluto uccidere Bravo il poster Sono riuscito ad uccidermi Bene Adesso mi chiamo Mi chiamo il Krewat Però questo non c'entra Oggi ho fatto un video Questo Col PC raga Col PC Ora possiamo vedere che è in 1.16 Perché è su Minecraft a caso Poi vi dovrò vedere In che senso Minecraft a caso Però vi spiego Quando fate i video da PC Non posso fare niente Però adesso vi spiego Vedete questo Fox 1047 Eh? Lo vedete? Lo vedete? Andiamo nel suo video Nel suo canale Se mi fa andare Vi stiamo parlando? Non posso parlare Se faccio i video Nel PC Se li faccio nel telefono O è questo? Sì Posso parlare Adesso andiamo sul suo canale Vi state vedendo Il tour del mio mondo Una nuova Una nuova valilla Vi spiegherò per bene Questo video A che cosa Parla Parla di questo canale Il love Fox 2047 Che ha un piccolo segreto Che ha un piccolo segreto Ma non ve lo voglio dire Un segreto riguardo al mio canale Il suo ruolo Vuol molto Però Lasciamo stare Lo dico alla fine Lo dico alla fine In questo video Allora vi spiego Non so i miei render Perché sono strani E bassi E il suo video Che praticamente È strabuggato E quella Scritta Io non so che ci fa Non ce l'ho messa io L'ha messa lui Ditemi come ha fatto Perché Allora Io so che lui Usa Incastromatic Ma io uso Un'altra app Per il telefono Uso Registro schermo Per il PC Uso Xbox Gamebar Si dovrebbe chiamare Così Eh Ok raga E uso AlkaBS Studio Soltanto che non voglio fare Tutte quelle cose Voglio rendere il video Normale Naturale Così Eh Stiamo vedendo Che fa la valilla Non lo sento Io perché sto Ora doppiando Perché Ah Per il telefono Fare il video Il voltaggio di video Dal telefono Uso Giaukart Allora Altiamo Fressivamente E rispolliamo Si Sto facendo Un video Un video Con I Fall Ok Ok Io mando il messaggio Voglio lo mando Saluta Alliamo Bene 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 Scriviamo Si Perché così Lo capisce E Alliamo Dai 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 Troppa E Ozione Di quando Vi risponderà Comunque Io credo Che ci voglia Molto tempo Per rispondervi Vediamo Quando ci risponde Io ve lo farò vedere A sicura Sicuro 99% Che ve lo faccio vedere Allora Io direi Che ci vediamo Fra poco Ciao Non voglio morire Cioè Nel senso Non voglio Cioè Perdere tutto In questa vanilla Sì Mi mangio La carne cruda Perché non voglio Adesso Di fare una cornace Tra poco La faccio Allora Tornando al mio canale Andiamo a vedere La vera voce Di Highcore La vera voce Del mio Cerro Buongiorno Buonasera Oggi Non ci importa La prima parte Dove siamo Buongiorno Buonasera Dovete vedere Qua Questa parte Mi faccio Vedere il momento Qua Questa parte Un'altra parte Le Highcore Oppure Fox Scegli Avete sentito Ha detto Fox Quindi E questo qui Ha detto Fox Ma Allora È lui Highcore Perché sei Highcore Cioè Io so Perché sei vendicato L'ho fatto anche A vedere del video Io credo Che è meglio Cancellare questi commenti Perché se lo influenza qualcuno Perché Non l'è stato Meno Highcore Una volta Mi ha cambiato Il nome del canale Però non l'è stato Niente Di che Si chiamava Songofile Poi L'ho risolvito Sono Come è sempre Stato Ok Io credo Quindi Aspettate Io aspetto Che lui risponda Ma per oggi È tutto E noi Ci vediamo Fra poco Mi ha detto Un minuto Per te Però Per me Più di Tre secondi Molto Più di Tre secondi Adesso Vi spiego Per bene Cosa è successo E io credevo Che lui rispondesse In poco tempo Però Non mi ha più risposto Quindi ho messo Quella piccola scritta rossa Non è vera Lì Prima Però Credo Nessuno L'abbia notato Però Non è Fino Poi Voglio andare a controllare Sul suo canale E vedete Si mi ha G risposto Perché io Cioè Qua è mezzanotte Credo che lo carichi A mezzanotte Il video A Do Ma Li Ciao